Ultima giornata del Festival delle Opportunità, ma non terminano ancora workshop e incontri destinati proprio ai giovani. Sì, stamattina siamo orgogliosi di ospitare i giovani cooperatori italiani, con la loro delegazione nazionale sono venuti in Basilicata già da ieri, e stamattina un bel panel credito, opportunità, cooperazione, accesso alle opportunità del mondo sia creditizio che del mondo della cooperazione. Adesso un bel workshop di lavoro per imparare un po' poi come ci si cimenta nell'avvio di una possibile start-up nel mondo della cooperazione. E poi abbiamo la parte conclusiva del Festival, questa mattina tiriamo un po' le somme col Presidente del Consiglio regionale. Abbiamo l'ospite inatteso, o meglio, era sotto traccia, era nascosto, e avremo il nostro undicesimo e conclusivo premiato come generatore di opportunità Peppone Calabrese. e poi ci accompagneremo nella pomeridiana con l'ultimo libro che presentiamo, Sergio Ragoni, il nuovo libro Game Changer, e poi il concerto dell'Orchestra Maldestra, uno dei progetti originali insieme al Festival delle Opportunità, che conclude questa quattro giorni, faticosa, stancante, ma certamente ci ha reso un po' più ottimisti e felici. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Grazie a tutti.